In questo numero del Salus Tg, inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma il nuovo centro integrato di senologia. Al via monitoraggio a tappeto di TAC, PET e risonanze magnetiche negli ospedali. Latina, capitale del soccorso con Emergency Expo. Taglio del nastro al Policlinico Gemelli di Roma che presenta il nuovo centro integrato di senologia. Un nastro rosa come il colore dominante di questo reparto a misura di donna, dove si concentra tutto il percorso di diagnosi e cura del tumore del seno. È fondamentale organizzare strutture come queste dove la persona viene curata, non l'organo ammalato. È un polo senologico che vuole offrire a pazienti di qualsiasi regione la possibilità di trovare un percorso di diagnosi e cura all'avanguardia e soprattutto anche un centro che è attento non solo a curare bene le malattie ma anche a curare bene le persone malate. Controlli a tappeto su età, collaudi, manutenzioni, contratti e tempi di utilizzo delle apparecchiature biomediche presenti all'interno degli ospedali italiani come PET, TAC, risonanze magnetiche e acceleratori lineari. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute sull'istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate. Latina per quattro giorni capitale delle emergenze. Fino al 18 maggio torna infatti Emergency Expo. L'esposizione nazionale delle emergenze organizzata dall'Ares 118 della Regione Lazio rappresenta un punto d'incontro per tutti i professionisti del settore. Il bambino Gesù di Roma è presente con propri stand con una squadra di medici e infermieri del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'ospedale e con l'ambulanza per il trasporto in ECMO dei pazienti pediatrici.